L'Italia in particolare potrebbe fare per il Mozambico. Signor Ministro, che cosa ritiene che questo forum e l'Italia in generale potrebbero fare per il Mozambico? Questo forum è una iniziativa molto buona, è un'eccellente iniziativa. Inoltre, noi interviamo conoscenza e opinioni, e noi interviamo informazioni. La idea è di cercare di avere una strada comunale e una strada comunale per il sviluppo. Per quanto riguarda l'Italia, ciò che possiamo fare per noi, è quello che possiamo fare per noi. Io sono un'advocato di un'associazione, e l'Italia ha un po' di potenza. In l'ultimo, abbiamo avuto un po' di cooperazione con l'Italia in l'infrastruttura. Abbiamo una buona esperienza in termini di infrastruttura, infrastruttura e infrastruttura. Abbiamo capito che l'Italia ha un buon compagno di costo in termini di transporte. Possiamo avere cooperazione su queste aree, e ovviamente con le telecomunicazioni. Possiamo avere buone comunicazioni, perché l'Italia ha tecnologie e abbiamo il Willing. Questo forum è un'ottima iniziativa, perché possiamo scambiarci opinioni, conoscenze, condividere informazioni. L'idea è quella di cercare di costruire una piattaforma comune per lo sviluppo. Per quanto riguarda quello che l'Italia può fare per noi, mi chiederei piuttosto che cosa possiamo fare gli uni per gli altri, perché sono a favore della partnership tra i due paesi. Le potenzialità dell'Italia sono enormi. Nel passato hanno contribuito con la costruzione di infrastrutture importanti. C'è spazio per le infrastrutture di trasporto, perché l'Italia ci trasferisca le conoscenze importanti che hanno il settore del trasporto navale, delle telecomunicazioni, con le sue tecnologie. Grazie mille. Grazie. Grazie.